Riapre il San Paolo per non chiudere le porte ai sogni di una città, di una squadra, il Napoli di nuovo in testa della classifica contro una regina che ha ritrovato invece la vittoria in campionato e si presenta qui al San Paolo per fare bella figura e naturalmente per fare punti Denis dentro per Amsic, cerca ancora la sponda, Denis, Denis! Il sogno continuo del Napoli con Denis, il primo gol in campionato al San Paolo per l'argentino, 1-0 per gli azzurri Attenzione, Lavezzi per Amsic, la posizione regolare, Amsic, Denis! Ancora Denis! Per un Napoli bellissimo di notte! 2-0, doppietta per l'argentino, Amsic! Poi tocca per Lavezzi, parte Lavezzi, Campagnolo, azione ancora buona, Denis la rimette in mezzo, allontana Barilla, ancora il Napoli ancora con Lavezzi, che tenta la conclusione, guadagna un angolo Amsic ancora per Denis, arriva Lavezzi, la conclusione Maggio, fuori gioco, fuori gioco Ancora Lavezzi, Amsic, Amsic in area di rigore, Amsic all'indietro ancora per Lavezzi Si salva la regina, poi scivola al limite Barreto, prova Gargano, c'è una respinta, l'azione è buona Lavezzi, Campagnolo, Campagnolo salva la regina Lavezzi, parte da lontano, parte in dribbling, ne salta uno, ne salta due Il cross per l'inserimento di Mannini, prova a calciare Mannini, esterno della rete 4 contro 1, c'è Lavezzi dalla porta opposta, Maggio insiste, il cross dentro, ancora Denis Un messaggio a Maradona, da parte di Denis, è al campionato e il Napoli resta capolista, 3 a 0 Maggio ancora Denis, c'è il salvataggio di Lanzaro che è l'ultimo a mollare in difesa Va al cross per Rakic, esce Navarro, esce Navarro che fa dunque la prima parata della serata L'islandese punta i suoi avversari, mette il pallone lì dove arriva Rakic, con un attimo di ritardo Alla deviazione, vincente Finisce, 3 a 0 per il Napoli, un Napoli che si conferma dunque capolista del campionato Vince da spettacolo contro una regina che nulla ha potuto davvero, contro un Napoli perfetto È una vittoria importante perché è arrivata con una squadra, con una piccola, no? Poi siete grandi con le grandi, dovevate dimostrare per la prima volta di fare la differenza anche quando siete dati favoriti Questo è un set importante che è dato al campionato Sì, è vero, l'anno scorso abbiamo trovato difficoltà per vincere così Per fortuna oggi abbiamo vinto e veramente siamo contenti Senti, abbiamo visto 3 gol di Denis, insomma tuo grande amico È un Napoli che sta crescendo nel segno dell'Argentina Maradona, CT dell'Argentina È una dedica, vuoi fare una dedica anche a lui? No, questa è una dedica per tutta la gente che sta con noi E per tutta la squadra che lavora durante tutta la settimana Penso che siamo sulla strada giusta Speriamo di continuare così Speriamo di continuare così